È molto comodo! Oh caspita, questo è proprio comodo! Beh, non c'è che dire, è morbidissimo! Sedendo in quella sedia rigida tutto il giorno, avrai la schiena indolenzita e anche le gambe doloranti. E non importa quanto lussuosi siano, i sedili dell'auto possono rapidamente diventare scomodi. Passare ore al computer ti fa venire il mal di schiena? Il problema non è come si sta a seduti, è causato da mancanza di sostegno e ammortizzazione. Ti presento Dualux, il cuscino di nuova generazione, che unisce la gomma espansa con un nucleo interno in gel di supporto. Fornisce la massima ammortizzazione e il sostegno tra il corpo e la seduta, per far sì che si accomoda qualsiasi sedia, non importa di cosa sia fatta o per quanto tempo ci si siede. I cuscini normali sono realizzati con la vecchia gomma piuma, Ma il design rivoluzionario di Dualux incorpora due strati di gomma espansa, oltre a un prezioso nucleo interno di supporto in gel, che distribuisce il peso uniformemente ogni volta che ti siedi, per evitare pressione e disagio e ridurre l'impatto del peso del corpo su muscoli e articolazioni. E a differenza dei cuscini normali, che diventano scomodi sedendoci a lungo, la gomma espansa di Dualux e il comodo gel anti-stress immediatamente si adattano a qualsiasi forma. Così si modella continuamente in base al tuo corpo, per darti il massimo sostegno e comfort. Ora il mio fondoschiena sta alla grande, e anche la mia schiena... È semplicemente il cuscino più comodo su cui mi sia mai seduto. Dualux è notevolmente superiore ai normali cuscini, perché il suo nucleo avanzato in gel fornisce un perfetto supporto adattabile, mentre assorbe completamente la pressione del peso del corpo su muscoli e articolazioni. Dai un'occhiata! Questo uovo resta intatto dopo essere caduto sullo strato di gel di Dualux! Incredibile! E basta guardarlo di nuovo a rallentatore! Il nucleo in gel di Dualux è veramente rivoluzionario! Otterrete i vantaggi di questa tecnologia ogni volta che lo utilizzerete sulle vostre sedie più comuni, o anche su quelle rigide di metallo. È perfetto in ufficio, ed è fenomenale per l'auto, il camion o qualsiasi altro sedile di veicolo. In realtà Dualux allevierà anche lo stress di schiena e fondo schiena se passi ore seduto in una sedia a rotelle. Ma non limitarti alle nostre parole, sentiamo cosa ne pensa la gente! Molto confortevole. La schiena si sente meglio, è comodo, è come se fosse qualcosa su cui puoi sedere a lungo. No, non è comodo. È piacevole e morbido, è bello e pieno, ci si sente veramente coccolati. È molto morbido, flessibile e molto, molto confortevole. Questa sedia risulta molto morbida, il cuscino è grandioso. È come sedere sulle nuvole, molto, molto, molto comodo. Non importa quanto sia rigida o morbida, la gomma espansa di Dualux e il nucleo in gel antistress trasformeranno qualsiasi sedia in una seduta confortevole e rilassante. Con Dualux dirai addio per sempre al mal di schiena e ai dolori della parte inferiore del corpo. Altri cuscini antifatica vengono venduti fino a 150 euro, ma Dualux con la sua doppia gomma espansa e il potente strato in gel antistress è tuo per l'incredibile prezzo speciale che vedi sullo schermo. E non è tutto, se sei uno dei primi 50 che chiamano, ti raddoppieremo l'offerta. Proprio così, otterrai il secondo Dualux al 50% in meno del prezzo. Ne prendi uno per casa e l'altro per l'auto, o uno per il giardino e l'altro per l'ufficio. Quindi togliti stress e tensione da schiena in fondo schiena e ordina subito il tuo Dualux. Chiamaci adesso! Milioni di persone nel mondo soffrono di mal di schiena e spendono centinaia, addirittura migliaia di euro cercando di sbarazzarsene. Ma con Dualux ti risparmi un sacco di soldi e un sacco di dolore. È un rivoluzionario cuscino in gel che dà il supporto completo al corpo distribuendo il peso uniformemente ogni volta che ti siedi. Quindi se sei in ufficio tutto il giorno o stai guidando per ore a lunghe distanze, è garantito per dare al lato schiena e al fondo schiena il massimo sostegno e comfort. È ricoperto in morbido pile, lavabile in lavatrice, ed è lieve per mantenerti fresco in estate, ma abbastanza spesso per tenerti comodamente al caldo d'inverno. È leggero da trasportare, lo puoi usare veramente dove vuoi. Il bacino è il fondamento della nostra colonna vertebrale, così da avere il giusto supporto sotto di noi quando ci sediamo. Come quando si usa Dualux, che può ridurre notevolmente la pressione sulla schiena, riducendo il dolore. Immagina come ti potresti sentire alla grande, lavorando per tutto il tempo che vuoi senza soffrire di mal di schiena. O come ti potresti sentire rilassato dopo diverse ore di guida non stop. Allora perché non eliminare stress e tensione da schiena in fondo schiena? È molto comodo. Oh caspita, questo è proprio comodo. Beh, non c'è che dire, è morbidissimo. E allora ecco come puoi avere subito il tuo Dualux. Sedendo in quella sedia rigida tutto il giorno, avrai la schiena indolenzita e anche le gambe doloranti. E non importa quanto lussuosi siano, i sedili dell'auto possono rapidamente diventare scomodi. Passare ore al computer ti fa venire il mal di schiena? Il problema non è come si sta a seduti, è causato da mancanza di sostegno e ammortizzazione. Ti presento Dualux, il cuscino di nuova generazione, che unisce la gomma espansa con un nucleo interno in gel di supporto. Fornisce la massima ammortizzazione e il sostegno tra il corpo e la seduta, per far sì che sia comoda qualsiasi sedia, non importa di cosa sia fatta o per quanto tempo ci si siede. I soliti cuscini sono fatti da un trancio di vecchia gomma piuma. Ma il rivoluzionario design di Dualux incorpora due strati di gomma espansa, oltre a uno strato interno di gel antistress, che distribuisce il peso uniformemente quando ci si siede, per evitare pressione e disagio e per ridurre l'impatto del peso del corpo su muscoli e articolazioni. Ora puoi stare in relax sulla tua sedia, o lavorare a lungo, o guardare comodamente la tv. E anche se siedi su di una sedia a rotelle per tutto il giorno, potrai godere dei benefici di Dualux. Siedo in questa sedia 10-12 ore al giorno. Prima stavo veramente molto scomoda, La schiena mi faceva male e il fondo schiena erendolo in sito. Adoro il mio cuscino Dualux. Il supporto e comfort del suo gel gli consente di regolarsi immediatamente, per adattarsi a qualsiasi forma. Così si modella perfettamente al tuo corpo ogni volta che ti siedi, per fornire a schiena e sedere il massimo supporto e comfort. Sono un camionista, faccio centinaia di chilometri e passo ore e ore ogni giorno al volante e credetemi, questo sedile è molto rigido. Ma da quando ho Dualux non ho più mal di schiena e anche il mio sedere si sente alla grande. La copertura di Dualux in morbido pile è lavabile in lavatrice. È abbastanza leggero da mantenerti fresco d'estate, ma abbastanza spesso da tenerti comodamente al caldo d'inverno. È il modo migliore per trasformare le sedie più comuni in morbide e comode sedute. Ed è leggero e facile da trasportare, il che lo rende un modo perfetto per rilassarsi ovunque vuoi. Altri cuscini antifatica vengono venduti fino a 150 euro, ma Dualux con la sua doppia gomma espansa e il potente strato in gel antistress è tuo per l'incredibile prezzo speciale che vedi sullo schermo. E non è tutto, se sei uno dei primi 50 che chiamano ti raddoppieremo l'offerta. Proprio così otterrai il secondo Dualux al 50% in meno del prezzo. Ne prendi uno per casa e l'altro per l'auto, o uno per il giardino e l'altro per l'ufficio. Quindi togliti stress e tensione da schiena in fondo schiena e ordina subito il tuo Dualux. Chiamaci adesso! Con Dualux troverai più facile lavorare più a lungo, senza caricare di stress schiena e sedere. Sarai in grado di passare più ore al computer, o fare qualsiasi altro lavoro che richiede di stare seduti per lunghi periodi, senza soffrire di mal di schiena o di qualsiasi altro tipo di disagio. Abbiamo portato Dualux al centro commerciale e ora ascoltiamo come la gente ha reagito. Mi fa sentire veramente bene, è proprio morbidosamente comodo. È terribile, non riuscivo a sedermi così per più di 5 minuti. Si dovrebbe provare questo, si dovrebbe davvero provarlo, che differenza! È davvero fenomenale! Comodo, piacevole, confortevole. Non confortevole. Posso sedermi invece su questo? Molto meglio, non c'è paragone. Questo è rigido e questo è morbido. È duro. Per niente comodo. Ora è più morbido. Wow, come dire, mi sento come se sedessi su una nuvola. Dualux consente di trasformare una sedia rigida in una seduta confortevole e rilassante. Con esso sarai in grado di sederti su qualsiasi sedia con massima comodità, indipendentemente dal tipo di sedia e da quanto a lungo stai seduto. Si modella il tuo corpo ogni volta che ti siedi. Quindi non importa se sei piccolo e pesi 48 kg o se sei alto 2 metri e pesi 120 kg. È garantito per dare alla tua schiena e al tuo sedere il massimo supporto e comfort per tutto il tempo che stai seduto. È ora di smettere di soffrire di dolori alla schiena e di fare qualcosa per loro. Possiamo comprare nuove sedie, ma è costoso e non risolverà il problema che è causato dalla mancanza di sostegno e ammortizzazione. Ma per solo una piccola frazione del costo di una nuova sedia è possibile ottenere Dualux e averne diversi per tutte le sedie di casa tua. Prendilo per l'ufficio o la sala da pranzo e anche per la tua poltrona preferita. Ovunque lo utilizzi sentirai immediatamente i benefici del suo sistema di gomma espansa e gel antistress che forniscono un adeguato sostegno e ammortizzazione per alleviare la tensione e prevenire il mal di schiena. Posso stare a sedere per ore senza dolori alla schiena o il fondo schiena indolenzito perché Dualux mi dà sostegno completo alla schiena e mantiene anche il mio sedere comodo. I cuscini normali sono fatti solo di gomma piuma. Dualux invece incorpora due strati di gomma espansa e un potente strato in gel antistress per gestire al meglio l'impatto del peso del corpo su muscoli e articolazioni. Sedere su superficie rigide per periodi prolungati può portare a disagio e alla fine tensione alla schiena. Ecco perché vi consiglio Dualux, un cuscino in gelatina che distribuisce uniformemente il peso riducendo significativamente le pressioni sulle articolazioni e i muscoli che possono portare al mal di schiena. Guarda, questo fragile bicchiere di vino si rompe facilmente quando viene lasciato cadere sul pavimento. Ma guarda cosa succede quando un bicchiere simile cade sul nucleo in gel di Dualux. Semplicemente non si rompe. Incredibile! Faccio la segretaria, sto seduta molto tempo e avevo provato ogni tipo di cuscino finora. Quello giusto è questo qui, l'avrei dovuto trovare tre anni fa sinceramente. La copertura in morbido pile di Dualux fa sì che sedere in qualsiasi sedia sia un'esperienza ancora più piacevole. Mantiene calda la seduta in inverno, mentre la sua traspirabilità e il comfort la rendono fresca in estate e quando è sporca basta metterla in lavatrice e sarà come nuova. Oltretutto Dualux è leggero e facile da trasportare in modo da utilizzarlo ovunque si vada. Con Dualux anche le panchine fredde risulteranno calde e le sedie a sdraio saranno ora molto più comode. È fantastico, credetemi! È come stare seduti su un tappeto magico! Immagina di essere in grado di sederti comodamente in qualsiasi sedia, senza avere la schiena indolenzita. E pensa a come sarebbe bello guardare comodamente la tv per tutto il tempo che vuoi. Quindi elimina stress e tensione da schiena e sedere. Ecco come è possibile ottenere il tuo Dualux. Sedendo in quella sedia rigida tutto il giorno avrai la schiena indolenzita e anche le gambe doloranti. E non importa quanto lussuosi siano, i sedili dell'auto possono rapidamente diventare scomodi. Passare ore al computer ti fa venire il mal di schiena? Il problema non è come si sta a seduti, è causato da mancanza di sostegno e ammortizzazione. Ti presento Dualux, il cuscino di nuova generazione, che unisce la gomma espansa con un nucleo interno in gel di supporto. Fornisce la massima ammortizzazione e il sostegno tra il corpo e la seduta, per far sì che si accomoda qualsiasi sedia. Non importa di cosa sia fatta o per quanto tempo ci si siede. I soliti cuscini sono fatti da uno strato di vecchia gomma piuma, ma il rivoluzionario design di Dualux incorpora due strati di gomma espansa, oltre a uno strato interno di gel antistress che distribuisce il peso uniformemente quando ci si siede, per evitare pressione e disagio e per ridurre l'impatto del peso del corpo su muscoli e articolazioni. Ora puoi facilmente trasformare questa sedia rigida in una seduta confortevole e rilassante. Lavora a lungo senza mal di schiena, guarda in comodità la tv e anche se sei in sedia a rotelle, Dualux ti farà sentir meglio. Siedo in questa sedia 10-12 ore al giorno. Prima stavo veramente molto scomoda, la schiena mi faceva male e il fondo schiena era indolenzito. Ora adoro veramente il cuscino Dualux. Il supporto e comfort del suo gel gli consente di regolarsi immediatamente per adattarsi a qualsiasi forma. Così si modella perfettamente al tuo corpo ogni volta che ti siedi, per fornire alla schiena e al sedere il massimo supporto. Sono un camionista su lunghe distanze, passo ore e ore ogni giorno al volante e credetemi, questo sedile è rigido. Ma da quando ho Dualux non ho più mal di schiena e anche il mio sedere si sente alla grande. La copertura di Dualux in morbido pile è lavabile in lavatrice. È abbastanza leggera da mantenerti fresco d'estate, ma abbastanza spessa da tenerti comodamente al caldo d'inverno. È il modo migliore per trasformare i mobili da giardino in morbide e comode sedute. Ed è leggero e facile da trasportare, il che lo rende un modo perfetto per rilassarsi nel comfort, indipendentemente da ciò su cui si sta seduti. Altri cuscini antifatica vengono venduti fino a 150 euro, ma Dualux con la sua doppia gomma espansa e il potente strato in gel antistress è tuo per l'incredibile prezzo speciale che vedi sullo schermo. E non è tutto, se sei uno dei primi 50 che chiamano, ti raddoppieremo l'offerta. Proprio così, otterrai il secondo Dualux al 50% in meno del prezzo. Ne prendi uno per casa e l'altro per l'auto, o uno per il giardino e l'altro per l'ufficio. Quindi togliti stress e tensione da schiena ai fondoschiena e ordina subito il tuo Dualux. Chiamaci adesso! Altri cuscini antifatica vengono venduti fino a 150 euro, ma Dualux con la sua doppia gomma espansa e il potente strato in gel antistress è tuo per l'incredibile prezzo speciale che vedi sullo schermo. E non è tutto, se sei uno dei primi 50 che chiamano, ti raddoppieremo l'offerta. Proprio così, otterrai il secondo Dualux al 50% in meno del prezzo. Ne prendi uno per casa e l'altro per l'auto, o uno per il giardino e l'altro per l'ufficio. Quindi togliti stress e tensione da schiena ai fondoschiena e ordina subito il tuo Dualux. Chiamaci adesso!